Anticipazioni e spoiler la promessa, puntate che vanno dal 18 settembre al 22 settembre. L'OP si scusa con Maria Fernandez per averla baciata e attribuisce lo sfogo al nervosismo che ha provato a causa del rapimento di Camilo. Maria Fernandez però gli assicura che l'ha già dimenticato ma non sarà affatto così. Nel frattempo Iana guarisce le ferite che Curro ha subito dall'ultimo pestaggio che Lorenzo gli ha inferito. La cameriera osa far capire al giovane che forse il capitano non è il suo padre biologico e il ragazzo decide di interrogare Cruz sul suo passato. Nel frattempo il matrimonio di Manuel e Jimena sta andando bene, i due giovani sembrano molto innamorati. La ragazza però prevale sul padre, il duca, e lo invita a trascorrere un po' di tempo alla promessa, mentre concludono i preparativi per le nozze. Dal canto suo Curro però continua a sospettare che Lorenzo non sia davvero suo padre, non si assomigliano per niente. Il ragazzo lo confessa alla zia Cruz che cerca di togliergli l'idea dalla testa anche se la donna resta molto preoccupata. Iana è contenta che Curro tragga conclusioni da solo ma Maria Fernandez non si fida del ragazzo. E infatti Curro scoprirà una verità su suo padre. Allo stesso tempo Romulo e Pia continuano a cercare di scoprire perché Gregorio si comporta in modo strano con Romulo ma per ora non ottengono alcune informazioni. Sempre nella prossima settimana di settembre che va dal 18 al 22, Curro si scusa con Iana per il suo trattamento distante e lei finalmente trova un modo per dirgli la verità, ossia che lui è suo fratello. Curro così scoprirà la verità e ne rimarrà sconvolto ma abbrancerà Iana come vediamo da queste immagini e suggeriranno questa loro fraternità. Scrivimi tu che cosa ne pensi, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale. Ciao e alla prossima!